Spostarsi in città diventa più semplice e accessibile anche in taxi. Da giovedì 16 febbraio si potrà raggiungere la ZTL del centro antico ad un costo fisso e senza spendere troppo. Le due tariffe, una di 6 e l'altra di 8 euro, collegheranno la maxi area pedonale alle località comprese in due fasce prossime al centro. Si pagherà 6 euro per i percorsi più brevi, ad esempio da Piazza Garibaldi o Piazza Carlo III, così come il Molo Beverello. Due euro in più se per raggiungere la ZTL si parte dal parcheggio Brin, dal centro direzionale oppure da Mergellina. Più taxi per tutti, è importante, si inserisce nel progetto di mobilità sostenibile a Napoli, quindi trasporto pubblico, metropolitana, funicolare, ZTL, pedonalizzazione, taxi con tariffe predeterminate e convenienti. Un incentivo quindi a uscire, uscire attraverso il mezzo pubblico e anche chi ama l'autovettura di servirsi dei taxi. Si risparmia, non c'è stress, si vive meglio, questo vale anche per le comitive perché veramente i prezzi sono assolutamente convenienti. Obiettivo dell'iniziativa, frutto di un accordo del Comune con le categorie dei tassisti, è quello di favorire gli spostamenti low cost da e verso la nuova area chiusa alle auto. Lunedì 13 febbraio, dalle 7 alle 18 parte la ZTL, anzi arriva definitivamente la ZTL nel centro antico. Abbiamo fatto questa intesa con i taxisti all'interno della consulta per favorire gli utenti, sia quelli che adesso usano l'auto, sia quelli che usano il trasporto pubblico, per far sì che il costo del taxi sia sempre più agevolato. L'applicazione del prezzo predefinito che non comporta l'avvio del tassametro va richiesto al conducente prima dell'inizio della corsa ed è applicabile tutti i giorni, compreso la domenica e i festivi. Il tariffario sarà esposto sulle vetture e anche in lingua inglese insieme ad una mappa esplicativa per facilitare l'individuazione delle aree percorribili a costo fisso. Il prezzo prestabilito è comprensivo anche di eventuali supplementi previsti per bagagli festivi e notturni. L'utente naturalmente può scegliere se prendere questa tariffa predeterminata oppure andare perché lo ritiene ancora più conveniente a seconda dell'ora, della giornata e del tratto che deve fare il tassametro ordinario. È una scelta che è lasciata naturalmente all'utente. Il taxi low cost è solo l'ultima delle iniziative messe in campo dal Comune per favorire gli spostamenti nelle aree cittadine pedonalizzate, dopo l'istituzione della navetta C55 e l'incremento delle corse notturne. Da sabato 11 febbraio sarà inoltre a servizio del centro la nuova linea di ANM C57.